Uno scrigno contenente uno strano liquido rimasto chiuso per centinaia di secoli viene aperto, mentre un gruppo di studiosi si affanna a decifrare le antiche scritte, è assalito da forze demoniache. La sorte di tutti sembra segnata, ma una ragazza del gruppo sacrifica la propria vita, uccidendo con se stessa una collega di cui il male si era impadronito, salvando così i superstiti. Ambiziosissimo film che ha il torto di cominciare alla grande per finire come un horror di Lamberto Bava.